ciao a tutti da daniele diego formazione 2021 mi è piaciuto il fatto di ritrovarmi nuovamente insieme a delle persone che non vedevo da diverso tempo e di conoscere nuove persone a casa ho portato tanta energia ho acquisito nuovi strumenti conoscenze informazioni e tante strategie efficaci da utilizzare domani per esempio sarò nel parco regionale dei monti simbruini dove condurrò un laboratorio escursione destinato ai nuovi accompagnatori escursionistici della federtrack un seminario cammin facendo dove metterò in pratica molte delle strategie e delle conoscenze che ho acquisito durante l'ecoformazione 2021 grazie ciao